ragazzi siamo qui su 12 minutes con reddits e reddits ha visto la prima parte del gioco si poi è crashato inspiegabilmente l'xbox serie x no serie s crashata malissimo quindi non ci ha manco salvato le cose che stiamo registrando con la stessa console vabbè è un gioco pesante devi capire è un gioco molto pesante in effetti no in realtà l'ho fatto sbarellare che stava raccontando la storia del padre salcazzi allora che succede quest'uomo torna a casa sua moglie lo accoglie noi sappiamo che gli dà una bella notizia gli dice che è incinta poi entra un uomo misterioso pelato come sottoscritto e li lega come salami e accusa la donna di aver ucciso 8 anni prima suo padre noi abbiamo un arco di tempo di 12 minuti per uscire fuori da questa situazione visto che dopo 12 minuti tutto si resetta e si torna all'inizio e c'è un telefono un telefono nel quale ci sono dei messaggi sto per andarmene da lavoro scusa il ritardo di nuovo cenato nella pausa mancava qualcosa c'era qualcosa fuori posto non mi sembrava cambiato niente nell'appartamento settimana scorsa ho dimenticato le chiavi di nuovo lo so lo so possiamo fare una copia nascondere da qualche parte all'ingresso vabbè perché quando siamo entrati avevamo la chiave dentro una pietra finta allora abbiamo provato a chiamare 911 perché sappiamo che arriverà quest'uomo sono già 3 4 volte che ricominciamo ma 911 ci dice che arriveranno in 15 minuti noi ne abbiamo solo 12 allora l'interruttore è rotto accendendolo funziona spegnendolo e riaccendendolo ti becchi la scossa e va e svieni l'unica cosa che sono riuscito a mettere nella griglia di elezione è il telefono io ho anche fatto una cosa ho spento la luce all'inizio quando lei è presente quando lei è in bagno all'inizio io sono entrato in casa velocemente sono entrato qua al buio mi sono seduto là o è lei porca troia sa dove stai e ti viene a bacia ti rintraccia all'inizio devi pagare sta tassa entri in casa e lei ti deve baciare anche se magari tu vuoi andare a cacare cioè stai di fretta lei ti ferma cazzo ma dai però era previsto prima che arriva prima che arriva nasconditi così non ti dà il bacio vai hai capito lei ti troverà e ti baci se stai qua dentro passa il tempo e arriva finalmente il poliziotto io aspetterò qui dentro vabbè è quello che ti ha detto il 911 stai in un posto sicuro ma con la moglie però la moglie non posso non posso non posso salvarla ma la moglie è stata accusata di omicidio quindi da qui puoi capire cosa succede è crashato prima quando ci stava spiegando la storia quindi vediamo un attimino brutto però che tu stai qua io tu non posso fare niente perché tanto tutte le cose che farai ti portaranno a mo vedi lui cosa fa va nelle altre stanze controlla io tu non posso farai ti portare POP! Lei è in Jean Allora questo dovete saperlo, allora c'è un orologio dinanzi Sei uscito troppo presto Chiudiamo la porta, ancora ci viene a cacare il cazzo Guardate Nicola sta costruendo la strategia, il 911 sa tutto Quindi se riuscirai a sopravvivere a questi 12 minuti Il problema è che dopo 12 minuti ricomincia tutto, a prescindere dalla tua morte In basso dovrebbe stare Hai preso l'orologio? No dove sta? Vai va nell'armadietto Vabbè c'è la porta aperta Guarda molto in basso Griglia di aerazione sotto l'armadietto, vedi? Ok, no perché mi è venuta un'altra idea Cioè? Quella di mettere i sonniferi nel dolce Anche? O nell'acqua? Queste sono tutte cose che ho provato Non ti sei chiuso la porta alle spalle Quindi lei si è incazzata Ok, questo non l'avevo mai fatto Io mi sono chiuso la porta alle spalle per non farmi vedere che frugavo lì Ah invece a te te l'ha sgamato No, la beccava sul pianerottolo Però adesso ce l'ho io l'orologio Quindi mo' viene torturata per 10 minuti tipo Perché lei gli dice che l'orologio sta lì Lui non ce lo trova Mo' gli fa un culo come una capanna Che lei che se ne esce scalza incazzata nera Sì, infatti Perché l'hai fatto? Ma scusa, è casa mia Eh, però Tu stavi frugando nella sua griglia di aerazione Perché l'hai fatto? Oddio, hai trovato una Tu gli dici, vabbè, l'hai trovato, che ne so Una pistola Devi vedere quanto si incazza se tu prendi il regalo prima di lei Teneci con il regalo in mano Guardi le mie cose Ti ho rovinato la sorpresa Non voglio mangiare, non voglio bere Non voglio fare niente Vabbè, è classico Ma come ti ha fatto a sgamare? Non lo so Tu hai... Cioè, dove devo fare stealth sia con lei Aspetta, aspetta Guardiamo cosa fa No, 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 no That can't be right Shut up You know what this is Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else Ah, no playing dumb Tell me where the watch is I'm not lying Please don't hurt us Honey, tell him He can't help you Just you and me Tell me where the watch is And we all go Però lei da adesso lo sai Che abbiamo noi Eh no Sì Perché se ne andai Ma perché è uscita È vero No 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 please No no please Ok 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 Uh Just stop Just stop Please Please Just don't Don't hurt you Please Please Eh, cosa affogare? Secondo me la dobbiamo fare doppiamente stessa Allora, lui può essere tramortito Basta che inneschi l'interruttore in camera da letto E quando lui va a fare il giro della casa per controllare se ci sono altre persone Lui ci rimane fulminato E mentre lui sta per terra tu puoi fare cose Così lui ci trova Quando lei lo manda in bagno Lui ci trova il 911 Lui ci trova la chiamata al 911 È quello che volevo fare Bravissimo Però mi sembra una cazzata No, perché? Vedi se sta ancora dentro Addio l'orologio Bene, bene Nessuno troverà l'orologio del padre È andata Nasconditi là dentro Magari la moglie non ti sputtano Beh, ma avete un bel momento Lo so che sta per avvenire un efferato omicido Però Cioè dopo la terza run Questo dovrebbe correre per fare cose Speriamo che Eh, la fangola Vai, provaci, provaci Però adesso no Perché quando ti dà le spalle devi provare Così è proprio È una cazzo di amebba Ok, ok, dai Sei di spalle Sei di spalle Non se ne accorgerà Non se ne accorgerà Non se ne accorgerà Vai, vai Taglia, taglia, taglia Mi raccomando Subito su di lui Col col coltello Ma quanto è la traccia Stascena E se Ci teniamo noi l'orologio E quando riusciamo a tramortire l'assassino Gli lo facciamo vedere Quando si sveglia Gli diamo l'orologio appena si sveglia Ci facciamo spiegare che cazzo vuole Invece da legato Eh, da legato magari ci parla Ci dice qualcosa Perfetto Cascato liscio liscio Muocendo pure io il culo Muocendo Appasciando pure io No, ma non funziona più Da volta che si è andato Allora La prima cosa ho fatto io Gli ho sparato, ho ucciso Però in realtà non risolvi niente Siccome è cattivo Lo svegliamo un attimino Nella gamba però Nella gamba Ma perché nel polmone Di che stai nascendo Chiediti dell'orologio Vado diretto Chiediti dell'orologio E io ti fai perdere se mi farmi. E' il watch, vieni. F***. F*** il watch. Hai una idea di quanto questa cosa vale? Il mone? E' quello che è questo? Si fai giocatori per il mone? Sì, non lo so. Non lo so. Sua sottotitola. La sua padre. La sua prima cosa che ho avuto. Si lo conosco? Lo conosco. Lo conosco? Mi ha insegnato tutto che ho saputo. Era bene per me. Chiedi la mattina della figlia e abbiamo letto, sì? Perché dai ancora caccia a mia moglie? Eh, l'ha detto. Come fa a sapere che è stata lei? E' la tua moglie Maggia, non so che, non lo so. E' come la notte? chi ti dà la dritta chi è stato l'ha provata a venderselo provalo a slegare si ci abbiamo pensato com'è il numero della... sono stato troppo aggressiva sono contenta che stai ancora mi ascolto chiamiamo Bumblebee 5550193 avresti dovuto chiamarmi prima sta a guardare il film sta al cinema quindi se... allora noi la possiamo chiamare prima però... ma vengono tutti da Bumblebee parla solo con l'assicurazione medica vai chiama chiama però è esattamente quel concetto che abbiamo detto noi di gioco tutto ambientato in una stanza piccola in una zona piccola dove c'è tutto resta il link però stiamo pieno del tempo stiamo a... dieci minuti eh ci abbiamo altri due minuti la musica è rilassante nooo ma che succede? e ricomincia eh no dieci minuti vabbè ragazzuoli io direi che è stato divertente siamo un mostro però dobbiamo chiamare prima la figlia cioè secondo me dobbiamo accoltellarlo perché sennò quello si sveglia e è ingattivito mentre chiamando prima la figlia prendiamo il telefono la prima cosa chiamiamo la figlia giusto? mo ci bacia via alla prossima